Noi siamo la compagnia dei Rustighi del Teatro Stabile del Veneto e siamo qui a Brescia a presentare questo spettacolo. Perché vedere i Rustighi? Perché è uno spettacolo e un testo soprattutto universale, senza tempo. La storia è molto semplice, si svolge in una mezza giornata dal mattino fino all'ora di pranzo del Disnar, perché in veneziano è Disnar. Il plot sono le nozze tra Lussietta, la figlia di Lunardo, e Filippetto, il figlio di Maurizio. La qualcosa però non si deve sapere, lo devono decidere soltanto i maschi. Le femmine si oppongono a questa cosa e per la prima volta si rivoltano contro i maschi. Chi vinceranno? I maschi o le femmine. Io sono Stefania Felicioli, che interpreta Felice, la signora Felice. Poi c'è... Io sono Pier Giorgio Fasolo, che fa la parte di Simone allo spettacolo, uno dei Rustighi. Io sono Giancarlo Previati, sono Lunardo, il Rustico è la casa del quale succede un po' tutto. Io sono Marina, moglie di Simone. Maria Grazia, mandruzzato. Io sono Alberto Fasoli e sono Maurizio nella finzione. Io sono Michele Maccagno e faccio il conte Riccardo. Margherita Mannino, interpreto la parte di Lussietta, figlia di Lunardo. Alessandro Albertina, sono Canciano, il quarto dei quattro Rustighi. Francesco Wolf, faccio Filippetto, l'innamorato figlio di Maurizio. Cecilia Lamonaca, interpreto Margherita, moglie in seconde nozze di Lunardo e quindi matrigna di Lussietta. E poi c'è che... qui non c'è il regista, che è Giuseppe Migliani, che salutiamo tantissimo. Stiamo facendo un capolavoro. Questo è uno dei più grandi capolavori goldognani, in assoluto. E quindi commedia divertente, molto divertente. Quindi vi invito a venirla a vedere perché vi perdete altrimenti qualcosa di molto interessante.